Il nostro WinPad 120W Il successore del nostro primo tablet su piattaforma Windows Questo tablet come vedete ha uno chassis più sottile Completamente ridisegnato E sarà basato sulla nuova piattaforma di Intel Atom Cedar Trail La macchina arriverà con una memoria di 2GB RAM e un disco da 32GB SSD L'arrivo previsto è all'incirca nel quarto quarter del 2011 Il nostro 120W arriva con una cover completamente ridisegnata Come vedete di colore bianco, doppia webcam Abbiamo anche cercato di integrare un nuovissimo trackpad Che ci permette di utilizzare il tablet Tenendolo anche solo con una mano A livello interfacce possiamo trovare il lettore di SD e card Il lock per la rotazione I pulsanti del volume I jack per le cuffie Una porta USB Sotto troviamo il connettore per l'alimentazione Il connettore per la porta docking Un'uscita mini HDMI E sul lato superiore troviamo il bottone di accensione Sotto troviamo il segnale per la porta Grazie.